Te sei dati. Finzi di Arducci, dati, dal Torrione, dati, dal Torrione, dati, dal Torrione, dati, dal Torrione, dati, da vero? Carboni, Finzi, dal Torrione, dati. Ha detto di sentire la caldana, io non la sento. Sento io dai. Ma prima cosa? Perché quello di inglese oggi ci ha fatto, voi siete quelli del serale? Sì, quello ho sentito. La caldana, la come, tutta a destra. E poi le ho fatto l'occhio in allù. Ma quello che in inglese è quello che dice lui? No, quello pelato. Quello che sembra, è un po' fiffì. Però secondo me, cioè, una caldana è quello che ci ha detto. Ci farà parlare noi di cosa facciamo, cosa siamo, e poi... Un argomento a piacere. Tutti schiupidi, abbiamo visto il processo in inglese. Un dol! Un dol!